Finiamo la puntata con la nuova BMW i3S, una nuova versione che è stata presentata da parte della casa di Monaco di Baviera con la voce di Alice Boboni. La BMW i3 stabilisce standard in tutto il mondo per il piacere di guida in un veicolo puramente elettrico. I fattori chiave qui non sono solo l'aumento della potenza del motore della nuova BMW i3S ma anche l'innovativo sistema di controllo della trazione adatto specificatamente alla potenza istantanea del sistema BMW e Drive. La nuova BMW i3 si presenta con una coppia di 270 Nm a 0 giri al minuto, una potenza di 135 kW, consumo di energia combinato nel ciclo di prova europeo NEFZ di 14,3 kWh per 100 km ed ovviamente emissioni di CO2 nel ciclo combinato di 0 g al km. Per quanto riguarda il sistema BMW e Drive, migliora la trazione e la stabilità di guida in condizioni climatiche avverse e su strada quando si accelera, nelle fasi attive di rigenerazione dell'energia frenante e durante l'accelerazione in curva. Il fulcro di questa innovazione è il sistema di controllo elettrico 50 volte più rapido, reso possibile dal fatto che, a differenza dei sistemi di stabilità di guida convenzionali, il processo di controllo viene ora calcolato direttamente nel gruppo propulsore, anziché in unità remota che richiede lunghi percorsi di segnale. Questo sviluppo fornisce ulteriori prove di BMW i3 come pioniere della tecnologia innovativa all'interno del BMW Group. Con i loro elevati livelli di coppia e le risposte istantanee a ogni movimento dell'acceleratore, i motori elettrici già richiedono requisiti significativamente più elevati per i sistemi di stabilità di guida rispetto ai convenzionali gruppi elettrogeni. Spiega Peter Lagen, responsabile dello sviluppo del telaio della BMW. Ecco perché gli ingegneri BMW hanno sviluppato un nuovo tipo di sistema orientato alle esigenze della mobilità elettrica. L'impatto positivo di questi cicli di controllo più brevi non è riservato alle auto puramente elettriche. Infatti, questo innovativo sistema di controllo della trazione ottimizza anche la trazione, la stabilità di guida e la dinamica di guida nei veicoli con motore a combustione. Sarà quindi montato nei modelli BMW e Mini con trazione anteriore, posteriore e integrale per offrire maggiore sicurezza e piacere di guida quando le condizioni stradali rendono difficile l'accelerazione. Così finiamo questa quinta puntata del 2018 di Electric Motor News. Noi vi diamo appuntamento la settimana prossima, sempre in questa rete a questo orario, però non dagli studi ma bensì da Città del Messico perché insieme a Daniele Drago abbiamo le valigie pronte per partire alla capitale azteca per presenziare una nuova gara del campionato di Formula E. Questo è tutto per il momento, noi vi ringraziamo e vi diamo appuntamento appunto la settimana prossima, sempre in questa rete a questo orario. Grazie e arrivederci.